Ed eccoci qua, quando mi ritrovo il direct di Instagram intasato vuol dire che è successo qualcosa e che dobbiamo parlare insieme Ma ovviamente ragazzi, quello che è uscito fuori non è propriamente la realtà, è quello che hanno voluto far credere ai tifosi del Milan Ma adesso mettetevi comodi che ne parliamo tranquillamente Prima di cominciare il video, come al solito, like per sostenere il canale Se volete vedere un video al giorno il vostro like diventa fondamentale Quindi cosa aspetti, non ti costa nulla premere quel tasto del pollice in su E in più se non sei ancora iscritto al canale, fallo in questo momento perché dobbiamo arrivare a 200.000 iscritti Prima della fine del 2023 Vediamo se ci riusciamo, è un'impresa abbastanza difficile Però conto su di te, quindi mi raccomando iscriviti Piccola premessa, prima di parlare dell'argomento principale Ragazzi, ieri ho fatto il video in cui ho parlato del match di Napoli-Inter Però come al solito, chi deve commentare dopo 30 secondi di video non manca mai Obbligatorio commentare dopo 30 secondi Senza neanche aver guardato 8, 9, 10, 12 minuti di video In cui io esprimo il mio parere E poi sotto nei commenti devo leggere cose non vere Oppure cose che ripetono quello che io ho detto nel video Perché sotto scrivono Eh, io ammetto che quello fosse fallo A parte quelli che non ammettono neanche il fallo di Lautaro Non li scarto a prescindere Li metto direttamente nel cestino dell'umido e li scartano Però ci sono quelli che mi scrivono Eh, però abbiamo comunque giocato bene Abbiamo comunque meritato la vittoria Chi ha detto che l'Inter non ha meritato la vittoria? Ho detto che l'Inter non ha meritato la vittoria È normale che se tu ti fermi al titolo È come sempre ragazzi Il titolo deve essere provocatorio Ve l'ho spiegato 50 milioni di volte come funziona YouTube Il titolo è come un articolo di giornale Deve essere d'impatto Altrimenti la gente che cavolo deve andare ad aprire un video Quindi il titolo molte volte è spesso provocatorio E quindi magari l'Inter ha rubato L'Interista per dar fastidio Ma se uno mi conosce, sa chi sono, si guarda il video E capisce che io ho parlato bene dell'Inter Ho detto che l'Inter è una grande squadra Che l'Inter è la favorita per lo scudetto E che si merita quel primo posto Che la vittoria ci poteva stare Anche se secondo me il Napoli non aveva demeritato E quando sento parlare di umiliazione e di cose Soltanto perché la gente accende il televideo E guarda il risultato ma non guarda la partita Perché il Napoli non ha giocato male Ragazzi, io non posso stare dietro a voi che commentate un titolo Ve l'ho spiegato, sono 7-8 anni che sto sul web E ve l'ho sempre detto Non guardate i titoli I titoli servono solo per attirare la gente in più Quelli, il pubblico extra Voi che siete quelli che guardate tutti i video Per favore Non commentate a scapocchia Allora parliamo della notizia di oggi Gli arabi signori E beh ogni tanto devono ricicciare fuori gli arabi Gli arabi vogliono entrare nel Milan Fredda, hai visto gli arabi Ci prenderanno gli arabi Invescorp è spuntata di nuovo fuori Vi ricordate Invescorp che era il sogno della nostra vita Adesso è ricicciata fuori Ma Quello che stanno dicendo non è proprio la verità Perché si parla degli arabi che vogliono entrare nel Milan Che gli arabi sono interessati al Milan Niente di vero E Jerry Cardinale Con il suo gruppo Che sta cercando dei nuovi investitori Perché? Perché questo deve dare ancora 600.000 cucuzze a Elliot E c'ha due anni di tempo per trovare questi soldi E quindi sta cercando nuovi investitori Non sta parlando soltanto con gli arabi Non ha parlato soltanto con Invescorp E io onestamente ragazzi La prima cosa che ho pensato Quando ho letto questa notizia Poi ripeto Soltanto un pensiero personale Non è che so qualcosa in più di voi Però pensiero personale Gli arabi entrano in società? Cioè gli arabi Quelli che sono abituati a comandare qualunque cosa Entrerebbero in società Se entrano con una quota in società È perché poi magari Tra uno o due anni Hanno la garanzia di prendere tutto Ma gli arabi che vengono lì a fare la particina Non ce li vedo proprio Quindi Già da lì ho capito che Non c'era tanto di reale Gli arabi Se devono comprarsi il Milan Se lo comprono Quelli un miliardo di euro Sono tipo 10 euro nostri Quindi non gliene frega niente Di entrare in una società Anche se questa Invesco Ci sta provando in tutti i modi A entrare nel calcio Prima col Mila Poi ha cercato il Napoli Poi ha cercato l'Inter Adesso si sta facendo Quindi probabilmente Prima o poi entreranno nel calcio Speriamo che entrino nel calcio Nella maniera giusta Però dicevo 600 milioni di euro Devono dare a Elliot E quindi Jerry Cardinale Sta parlando con gli arabi Sta parlando con gli americani Sta cercando in tutti i modi Di trovare nuovi investitori Questo cosa vuol dire? È una buona notizia per il Milan? Beh ragazzi Più soldi ci sono Più gente investe i soldi del Milan E meglio è Questo è certo Jerry Cardinale E io ve l'ho già detto Da solo non è un presidente Non è una società Che può permettere al Milan Di tornare a vincere Probabilmente Non possono permetterci Di vincere Nemmeno in Italia Perché adesso hanno fatto Gli sboroni e tutto quanto Bilancio in verde E tutto quanto Perché i risultati sul campo Comunque sono arrivati È arrivata una semifinale Di Champions League È arrivata una qualificazione Di Champions League Anche se eravamo arrivati Quinti E ci è andata bene Però diciamo che tutto Stava andando Secondo i loro piani Adesso Il giro di Champions League Probabilmente 95% Non lo passeremo E arrivare nelle prime quattro Non è più una cosa Così scontata Come poteva sembrare A inizio anno Anche se secondo me La squadra Se si riprende E abbiamo meno infortuni Possiamo tranquillamente Arrivarci nelle prime quattro Io ne sono certo Però diciamo che Non è più una cosa scontata Diciamo che hanno perso 113 milioni Già Senza il passaggio Della Champions League Senza la partecipazione Al prossimo mondiale Per club Quindi le cose Adesso stanno andando Un po' Dal punto di vista Del ribasso Non stiamo più lì A essere i campioni Del bilancio Quindi più gente investe Sul Milan Meglio è Però questo ci fa capire Anche che Gerry Cardinale Non riesce neanche A comprarselo Il Milan Cioè che progetto Vuoi avere Se non sei neanche Lui Il Milan Un miliardo e due Ne ha pagato metà Quindi mi spiegate Come faccio io A avere fiducia In uno che non riesce Neanche a comprarsi Il Milan da solo Cioè questo Cioè questo si è comprato Il Milan Grazie ad aver fatto Un debito con Elliot Che vuole ripagare Con altri investitori Ragazzi così Lo posso fare Anch'io il presidente Del Milan Cioè così è semplice Fare il presidente Del Milan Cioè il presidente Del Milan Comunque deve Deve metterci Qualcosa di suo Non puoi soltanto Comprare il Milan Nell'affare Così perché Potevano vendere No prima Elliot poteva vendere Direttamente A Invescorp Avrebbe pagato Quei soldi Direttamente No ha preferito Vendere a Cardinale A Redbird Facendo un prestito E so tutte cose Che a me non mi tornano Io sono ignorante Da questo punto di vista Nella finanza Non ci capisco nulla Sono proprio Terra terra Però Io vado con la logica E per me la logica Non è normale Se io devo vendere una cosa E la posso vendere a te Che me la paghi Tutta una botta Invece di venderla a quello Che devo fargli un prestito E tutto quanto Secondo me C'è sempre Io ormai La cessione del Milan Da dopo Berlusconi Mi dispiace Ma ci ho visto soltanto Ombre Spazi neri Dove non Dove gestiscono In maniera abbastanza ambigua Da quello là Che lo voleva vendere A quello Poi l'ha venduto Al cinese Il cinese che non c'aveva 5 euro Per pagare la tassa E quindi Ha speso 100 milioni 200 milioni E poi Ha perso quei 200 milioni Perché non aveva 30 milioni Ragazzi È stato un grosso Un grosso Un grosso Calderone In cui c'è soltanto merda E adesso mi sembra L'ennesima Merda Questo passaggio Da Elliot A Redboard Non mi aveva convinto I tempi E adesso Che sento che questo Cerca anche nuovi investitori Per pagare il debito Per comprare il mila Mi convince sempre di meno Quindi Per tutti quelli Che in questo momento Mi dicono Fred Ma perché Non sei per i Pioli Out Ragazzi Io credo che in questo momento Il mila Abbia un problema Più grosso Rispetto a quello Di Pioli Che questa società Che questo presidente Che a me Non convince Per nulla Non torneremo mai grandi Con questo presidente Possiamo provare a lottare In Italia Quello sì Possiamo essere una società Che ha i conti a posto Ma non sono per nulla convinto Fatemi sapere la vostra E vediamo cosa Io spero veramente Che gli arabi Solo compiono tutto Il mila Questo è il mio pensiero